Ciao, sono Teo di Protocollo Fitness e oggi finalmente ti presento Protocollo Mamma, il nostro programma interamente dedicato alla preparazione delle mamme in gravidanza. Ti seguiremo con tutto il nostro team di esperti composto da ostetrica, osteopata, personal trainer, nutrizionista e massoterapista per farti arrivare al giorno del parto in perfetta forma. Come funziona? Oggi ti regalo ben due sedute, la prima con l'osteopata che ti farà il primo test di valutazione posturale globale e ti farà anche un test impendenziometrico per la valutazione della composizione corporea, importante per tenere sotto controllo l'aumento del peso. Dopodiché ti regalo la prima seduta con l'ostetrica con la quale valuterai il tuo pavimento perdico, importantissimo per avere la gravidanza da favola. Mi raccomando, se vuoi partecipare a queste tue sedute gratuite, clicca qui sotto e verrai ricontattata al più presto dal nostro staff. Ciao, a presto!